Non volevo assolutamente questa incontenza prioritaria nel presentare il libro del professor Brancato che ho conosciuto, è da poco che ci conosciamo sul Brancato, ci siamo conosciuti in un luogo in cui o per le disperazioni, cioè parlo a livello soggettivo, o per le interesse, o per le chissà che cosa, me lo chiedo ancora dopo tanti anni di frequentazione degli archivi e in particolar modo dell'archività del Palermo, di essermi un giorno rimattuto in una richiesta da parte del professor Brancato che precedentemente avevo sempre visto come una persona completamente assolta, estraniata dal contesto e che con una tenacia che veramente dava quasi fastidio, ecco, di essere sempre appresso alle carte dell'archività del Palermo del Palermo del Palermo. E mi chiedevo, ma non mi chiedevo chi fosse questa persona, un giorno vedendo il suo nome scritto nel libretto delle richieste dei Brumi, ho visto un nome scritto nel libro di Brancato, Brancato mi dice qualche cosa, mi ha detto qualcosa perché ho conosciuto il papà del professore Salvo, e quindi è nato questo avvicinamento, questa curiosità di sapere di più qual è l'argomento che lui ha trattato, che lui ha preso in considerazione con Bambetti. Fatta questa parentesi di carattere personale e avendo in mano, e quindi ho l'opportunità di leggere, scusate, solo il secondo e il terzo capitolo, dopo un letto punto, mi chiedevo cosa serve scrivere un libro di storia oggi, perché evidentemente oggi con i mezzi di informazione immediati, che diciamo, la maggior parte dei giovani, mi rifaccio all'interrogativo che secondo me è maleditore, l'ipodistologia che può interessare, ed è una domanda drammatica questa, e secondo me è possibile accedere a questa fonte di informazione che è statica e in effettiva, è una fonte di informazione che è una sintesi di giorni, ore, giorni, mesi, anni, e quindi pensate bene cosa significa, certo non ogni giorno, perché io lo vedevo, periodicamente, ma dico questo in termini anche di tipo economico, in termini di spreco di energie, di intelligenza, di applicazione sistematica, quella che è la ricerca documentaria, e questo interrogativo si può sciogliere dicendo che se non c'è la passione, non ci si avvicina a questo mondo di carte polverose, tarlate, leggibili, e tutto quello che comporta proprio la materialità del documento. Il professor Pagato ha adottato, più che capitoli, io richiamerei delle aperture, delle finestre attraverso le quali non c'è un processo di tipo cronologico, ma ci sono dei motivi di interesse, di prospettiva, dico questo perché un libro, anche se ha una dimensione, non è necessariamente legato anche alla scansione cronologica, uno può affrontare determinati argomenti, e questo è un tempo abbastanza moderno, diciamo, del fare storia di un centro urbano. Qui dicevo che le prime due capitoli hanno interessato perché focalizzano l'attenzione su quelli che sono due o tre personaggi che avevano. Il Berlacera, nel Quattrocento, come imprenditore di canna d'azzucchero, i Galletti, o Centegliessi con l'imparentamento con il Conte di Galliano, e poi, infine, con il Fondatore, cioè quello che è materialmente ammesso la prima pietra, questo centro del Palermetano, che è l'FM Bologna, come lo chiamiamo io, Francesco Maria Bologna. Evidentemente, questi sono i cardini attraverso i quali è passata la storia del, non dico del territorio di Altavilla, che ha una presenza molto più antica, certo è arduo fare un libro che parta dal XII secolo al XIX secolo, che è pesante nella ricerca, però dico questo, che nella struttura di questo libro articolato, evidentemente si vanno a centrare degli obiettivi, degli elementi precicli nella lettura, di quello che è poi lo sviluppo urbano del paese, della città, quello che sia. E questo è un elemento che ci dà molti spunti, per poter dire, io non sono molto, non mi piacciono i libri di storia, ma più che altro storia come avvenimento di carattere generale, di storia che poi invocano la macrostoria, quella che noi indichiamo come macrostoria. Io sono più, diciamo, scendo più nel dettaglio, ma la storia come elemento di ricerca, io mi ritengo un compilatore. Il compilatore è quello che fa una classifica, fa mente degli elementi uno dietro l'altro, come il ragioniere, no? Io mi ritengo tale, anche se i miei interessi di ricerca storica sono ben tutt'altro, diverse da quello del professor Brancano, di cui ho apprezzato, diciamo, il suo interesse e la sua passione per questo centro urbano. Gli interessi sono di tipo militare, cioè di storia militare del Cinquecento, quindi c'entra con alta linda in un certo senso, perché volendo se il Bellacera si costruisce il suo punto di riferimento del trappetto di canna da zucchero, che è l'elemento fondante poi del baglio, del fondaco, della torre armata, perché il Bellacera aveva un suo, diciamo, parco di artiglierie del Vattrocento, per pensare un po' per la difesa della costa, dalle incursioni piratesche. Ma di questo, evidentemente, ci possono essere anche altri motivi per approfondire gli aspetti territoriali in rapporto alla territorialità di questo feudo, che poi in fondo era un feudo a Stavilla, rispetto a quello che era il rapporto con la territorialità di Termini. Ecco, questo aspetto di conflittualità tra una città demaniata di grande rilievo Termini-Vereze, rispetto a quelle che erano, che era la, diciamo, un piccolo feudo che poi successivamente ha degli ampliamenti e degli allargamenti nel territorio. Io non voglio ulteriormente dilungarmi, faccio i complimenti anche alle ditore, e li ho già fatti, perché il carattere tipografico è bellissimo, è anche entusiasmato in altri. La copertina altrettanto, insomma, si legge abbastanza bene. Grazie.